L'Udc svolta definitivamente, non ha mai condiviso il ricorso presentato dal gruppo locale del centrodestra, le distanze tra il partito centrista e il resto della coalizione si sono fatte abissali dopo l'esposto in procura e adesso con l'atto di citazione per quere là di falso nel quale il leghista Giuseppe Spata chiede una perizia grafologica sulla firma dell'ex responsabile dell'ufficio elettorale del comune, il dottor Ferdinando Incardona, morto ad inizio dicembre e padre del consigliere centrista Salvatore Incardona. Si ipotizza addirittura un falso, cosa che scatena l'indignazione politica dei vertici Udc che intanto si dicono pronti a collaborare con il sindaco e con la maggioranza. Parlano di accuse inimmaginabili, soprattutto perché arrivate dal candidato sindaco che l'Udc ha sostenuto non più di otto mesi fa. Spiegano che nei giorni scorsi avevano dichiarato di voler prendere le distanze dalle iniziative giudiziarie della coalizione, ma oggi sono ancora più convinti della scelta e lo spiegano sia il consigliere comunale, coordinatore cittadino Salvatore Incardona, sia il coordinatore provinciale Silvio Scichilone. Il fatto che la politica si trasformi nelle aule di giustizia non appartiene, spiegano alla cultura politica dell'Udc. L'apertura politica alla maggioranza è quasi conseguenziale. Incardone e Scichilone dicono di essere pronti ad iniziare un percorso di condivisione amministrativa, politica, di impegno per la città, una scelta convinta e necessaria per dare ancora più forza e rappresentatività alla stessa città. Politicamente l'addio al centro-destra è una risposta a consiglieri di maggioranza come Rosario Tranito, che proprio all'Udc ha chiesto di fare un passo verso Greco, ma prima dell'esito del ricorso al Tar. A questo punto la maggioranza arcobaleno potrebbe diventare di ferro in attesa della pronuncia. Sul destino della giunta si dicono subito pronti inoltre ad organizzare un incontro con l'assessore regionale Domenico Turano sul futuro della Zess locale.